E' preoccupato delle sorti di Saman? Non si è trovato niente? Sono molto preoccupato. Si dice che il corpo sia finito nelle acque del Po vicino a Guastalla. Perché secondo te si dice questo? Perché i fan e i f***ar hanno dato un consiglio anche ai genitori di Saman e allo zio. Facciamola a piccoli pezzi e portiamola al fiume di Guastalla. Ah, sono stati cugini a dare questo consiglio? Sì, i fan e i f***ar hanno detto tantissimo ai genitori di Saman. Anche a Danish, quello che è scappato di fare questa cosa. E tu come fai a sapere questo? Io lo so, loro mi hanno mandato fuori, fuori dalla camera e ho sentito. E questo è avvenuto quando? Quando è successo questo? Prima che succedesse questa cosa. Il 30 aprile? Sì, prima di uccidere Saman. E che altro hai sentito in questa conversazione? In che senso? Oltre al fatto che la volevano probabilmente fare a pezzi, hai sentito altre cose e che... Il farne l'ha picchiata Saman tante volte. Anche f***ar una volta le ha dato una sberla. Perché la picchiava? La picchiava perché non si comporta bene e perché scappa. Però gli inquirenti non lo hanno indagato. Lui non è tra gli indagati. Lo so, quello che è sapevo l'ho detto anche ai carabinieri e ai giornalisti. Adesso non voglio neanche parlare. I genitori di Saman dove sono? In Pakistan. La mamma ha parlato con un amico di Saman e ha detto che anche gli altri sono in Pakistan. Lo zio e il cugino. Questo io non lo so. La persona che ti ha chiamato per dire di non dire nulla, chi è? Hai ricevuto una telefonata subito dopo? Sono persone della famiglia? Sì, la sorella del papà di Saman. Adesso però non posso parlare. Ma tu hai cercato di scappare? No. Hai paura che ti possa succedere qualcosa? No. Ti senti al sicuro? Sì, molto. Non hai paura che la famiglia possa farti qualcosa? No. Il fidanzato di Saman ha detto che il papà è una persona violenta e che aveva anche ucciso delle persone. Ti risulta? Non ha ucciso nessuno, però quando beveva era una persona molto violenta. Però non ha ucciso nessuno fino adesso. Questa è una bugia. E perché secondo te Saman ha detto questa bugia al fidanzato? Questo non lo so, perché non ha ucciso nessuno. Sono scappati. Se ha ucciso qualcuno non sarebbero potuti arrivare fino in Italia. Tu sapevi che i parenti di Saman hanno minacciato i familiari del suo fidanzato? Questo sì, lo so. Quindi sono andati a dire di lasciarsi, che non dovevano stare insieme? Sì. Perché? Questo non te lo so spiegare meglio. Perché Saman era promessa e sposa al cugino? Sì. Il cugino in Pakistan voleva sposare Saman? Sì. Adesso cosa pensi che succederà? Non lo so, io prego che la ritrovano. Sto aiutando anche io. E come li stai aiutando? Parlando con i carabinieri, li dico qualsiasi cosa. Se ho novità, le dico ai carabinieri. Ma tu quella sera hai visto Danish? La sera della scomparsa? Sì, l'ho visto. Monica? Ha una testimonianza molto importante perché intanto parla con sicurezza di tutto ed era presente, viveva in quella casa. Se non è uno che ha ascoltato frasi riportate, era presente e ha ascoltato tutto. Un testimone oculare che sta comunque collaborando, che sta dando dati importanti e che mi sembra veramente molto credibile. Per cui è importantissima questa testimonianza. Che il corpo sia lì sicuramente è l'aspetto più difficile perché non avevano mezzi. Quindi qualcosa che è possibile. Siamo in piena, diciamo, lockdown, no? Siamo in lockdown, quindi misure restrittive. I parenti non hanno la patente, non hanno la macchina. Avrebbero dovuto farsi prestare la macchina a qualcuno, caricare un corpo fatto a pezzi per poi portarlo a chilometri di distanza. Il tutto mente circolavano poche persone e una macchina poteva dare dell'occhio, insomma, un po' una ricostruzione... È molto difficile, però ecco, sicuramente è macabro da dire, ma quello che avevano, diciamo, così pensato con il corpo di Saman rendeva più facile per loro far sparire il corpo, anche magari usando i mezzi che avevano, come le biciclette, ad esempio. Anche se a chilometri, però magari per loro è una consuetudine. Senza entrare, e ti do aiuto alla dottoressa Bruzzone, perché poi l'argomento è molto delicato, senza entrare troppo nei dettagli, però un conto è cercare un corpo che quindi rilascia delle tracce visibili, con i termoscanner, con tutte le apparecchiature di un certo tipo, ma cercare, diciamo, pezzi più piccoli diventa estremamente complicato. Se non credo addirittura del tutto inutile, soprattutto se fatto dall'alto, con tecniche, diciamo, insomma, anche all'avanguardia, ma che non possono, o no, dottoressa Bruzzone, non possono evidenziare... Partiamo dal presupposto che è stato un delitto premeditato, perché questa è anche la contestazione che fa la Procura, che è stato organizzato in ogni sua fase, quindi non solo quella dell'esecuzione, ma anche quella assai importante per loro dell'occultamento. Consideriamo che poi loro avevano bisogno di tempo per sottrarsi chiaramente a tutta una serie di conseguenze, fondamentalmente all'arresto, e hanno avuto modo di organizzare il tutto in maniera anche abbastanza, diciamo, tranquilla, tra virgolette, perché questa fase è durata giorni, anche quella successiva al delitto. Quindi non è assolutamente inverosimile ipotizzare un depensamento con l'obiettivo di occultare il corpo in maniera, diciamo, più ampia possibile e rendere assai difficoltose le ricerche. Un conto è cercare una salma integra, un conto è cercare una salma in altre condizioni, non mi fa entrare in maggiori dettagli, però chiaramente anche la ricerca cambia radicalmente modalità e purtroppo anche percentuale di successo. Se posso aggiungere, Milo, l'Italia non è necessario avere il corpo per processare ed eventualmente anche condannare qualcuno. Questa testimonianza che hai prodotto mi pare una testimonianza risolutiva, se è attendibile questo signore c'è poco altro da cercare, sia vino, poi ha detto che ha parlato con i carabinieri, immagino che sia un testimone che hanno abbondantemente ascoltato e hai fatto un lavoro igreggio su questo. I nostri indiati, i nostri indiati, i nostri indiati, quello che c'è, no, se è attendibile può non essere attendibile, ma se è attendibile... Io ho parlato di un congiunto stretto. Eh, appunto, per cui... Lei, avvocato, sa che quando uno parla di un congiunto stretto lo rende riconoscibile, doppia la voce, cioè lo fa per un motivo molto preciso. Certificando l'attendibilità, quello che mi permetteva dire è che non è che dobbiamo trovare necessariamente il corpo, qui come diceva la dottoressa Bruzzone c'è tutto, c'è la premeditazione, c'è addirittura quello che l'ha sentito, le modalità per eliminare le tracce, qui c'è proprio tutto. I am다고! I amato!